Com'è? Buongiorno a tutti, sì buongiorno. Pensavo buonasera, vabbè fa niente. No, buongiorno, sono le 3 meno 10 del mattino, quindi direi buongiorno. Poi qualcun altro vuole buonasera, io dico buongiorno. Allora niente, dunque siamo su domenica mattina, sabato è già finito e oggi la signorina tutto il giorno che continuava a dire mi voglio sfidarti a calore di oggi. Io c'è tutta la sfida e staremo un attimo a vedere come va a finire. Essendo che purtroppo ho solo un controller, faremo una partita a testa online e vedremo un po' i risultati. Quindi io inizio e stiamo a vedere. No, sono già una partita iniziata. Ma ecco cosa, siamo tutti con te. Sono tutti con te, è già iniziato. Spara, spara. Dai. Dai, fermo. Questa è una scusa, cocco, dillo. No, è verità. Sì, sì. Sì, siamo già a tre. Ecco l'amico Topolino che si fa a compagnia. Ciao Topolino. E qui, piano piano ci arrivo, c'è cocco che sta scelerando con il gioco. Vabbè, andato abbiamo vinto. Dai, non ammazzati i sette. Vediamo. La partita era già iniziata. Bravo! Dopo devo far vedere anche i nomi degli altri. Marto! Vittoria! Sette. Toccate adesso. Allora, la partita sta caricando, scendi giù, scendi fanteria, X. Allora, la chiacchierona ha detto che sa giocare, ma in realtà non sa giocare. Ti provo. Che mi ha appena chiesto i tasti e la vedo già un po' in difficoltà. Sono andata incastrata pure. Ok. Allora, per ora riesci a correre. Dai, cosa fai lì? È tuo, quelli con il rosso sono i nemici. Ma non andare contro i muri. E ti calmo. E molla la mira, se no non corre. Oh, senti, la tua donna può fare a quella che vuole. A sinistra che ti sparano, sono tutti di là. Qual è? Dai, corri là. Eccolo. Eh, sei già morta. È morto, è morto e sta morto. Schiaccia quadrato. Ma fai un rocco. Dai, dai. No, corri, corri, forest, corri. Questo che è il nome? Dove vai? Oh, c'è provato. Ah, no, poi non so. Giù, giù, lì. È morto, l'ha già ammazzato. Eri già morto anche tu se ti sparava. Non sparare a caso. A sinistra. No, sono cattivo. Eh. Ah, no. Mi sento omigliata in questo momento. Ci devo riuscire. Allora, guardate com'è concentrata. Vedi uno. Eh, vedi. Vedi cosa? Vedo, vedo, vedo tante cose. Eh. Spara lì, spara lì. Quello lì? Sì. No, è tuo amico. Eh, ma c'è comunque. Ce n'è uno dentro. È giù, è giù. Vai giù. Vai, vai. Cosa fai? Eccolo. Cavolo. Eh, buonanotte. Eh, però dai. Ci potevo essere. Vabbè, ma... C'era quasi. Cioè, fai schifo. Non so che faccio schifo. Perché no, che quelli che parlano schiacciare è quadrato. Sei schiacciato. Bene, la partita è finita. E come possiamo notare siamo a 5 uccisioni e 15 volte è morta. Quindi possiamo dire che qua la campionessa non c'è. E la coppa dei campioni passa ovviamente al maschio. Quindi dopo questa, signori, vorremmo salutarvi a tutti. Quindi un saluto, un abbraccio da Cocò e Pepe. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao.